Dottor De Ponti, due parole su questo concorso Emerge Italy. Oggi abbiamo premiato i tre vincitori di questo concorso che ha visto la collaborazione di importanti studi di progettazione americani. Questi tre vincitori oggi sono stati premiati e adesso cercheremo di mettere in produzione, di invitare le imprese italiane a mettere in produzione questi prodotti che oggi sono stati premiati. E' importante la collaborazione che si va a instaurare a seguito di questo progetto con questi studi americani perché questa collaborazione consentirà a un numero di giovani progettisti e architetti italiani di fare uno stage presso questi studi americani. Quindi una grandissima opportunità di apprendimento per i nostri giovani italiani. E poi oggi abbiamo anche potuto annunciare una grandissima novità di cui sono molto fiero ed è il fatto che la collaborazione che oltre un anno fa abbiamo avviato con l'organizzazione mondiale degli interior decorator, la IIDA che ha sede a Chicago, a cui aderiscono oltre 18.000 interior decorator in giro per il mondo, ebbene questa associazione ha deciso di aprire il proprio ufficio di rappresentanza in Italia presso Federlegno Arredo a Milano. Questa è una straordinaria notizia perché dice delle opportunità di relazione che si potranno sviluppare e noi ci auguriamo molto efficaci in termini di business tra le imprese italiane di arredamento associate a Federlegno Arredo e questi grandi interior designer, interior decorator che sono in giro per il mondo. Grazie